Sarà un fine settimana di fuoco quello che si prepara a vivere la San Benedetto sportiva. Due manifestazioni di carattere nazionale infatti caratterizzeranno la riviera sabato 24 e domenica 25. Una dedicata alla competizione agonistica, l'altra per gli appassionati di motori. L'associazione atletica Torrione organizza per la quattordicesima volta il Gran Premio dell'Adriatico e l'Atletica Leggera. Il mitic nazionale su pista è riconosciuto come una delle manifestazioni di maggior prestigio in Italia. I migliori atleti master nazionali si danno infatti appuntamento a San Benedetto per dar vita ad una due giorni di sana competizione. La manifestazione inoltre, presentata oggi dall'assessore Fanini e da Barbara Burrasca dell'Atletica Torrione, avrà anche un nobile scopo, raccogliere fondi destinati alle popolazioni dell'ex Birmania, in collaborazione con SOS Missionario. Un evento dedicato più agli occhi che al fisico sarà invece la seconda tappa del campionato italiano di motonautica categorie Endurance e Offshore. Dopo gli apprezzamenti, ma anche le polemiche, al Mondiale Power Boat, San Benedetto ospita un'altra competizione nelle proprie acque. Oltre 50 equipaggi cavalcheranno le onde del nostro mare, affollando nuovamente la zona antistante il Molo Sud. Tecnici, piloti ed appassionati saranno concentrati in un apposito villaggio, che ospiterà anche un'area bimbi gratuita. San Benedetto, città, regina dell'acqua, dice l'assessore Aldo Fanini. E la nascita del parco marino? Aspettiamo direttive dalla sua esituzione, sostiene Fanini, e speriamo che si possano ripetere eventi di questo genere. Parole a cui si unisce anche Aldo Sabatucci del CONI provinciale. Grazie. Grazie.